Sindaco, il Comune di Pescara è pronto eventualmente a gestire le naiali? Oggi che l'impianto è chiuso, dopo un anno di pandemia che ovviamente ha creato problemi incredibili a tutte le attività sportive, il Comune di Pescara non può che scendere in campo, non può certamente tirarsi indietro e dice alla Regione noi siamo pronti, siamo pronti a gestire insieme l'impianto, a mettere a disposizione uomini, forze, managerialità, conoscenze, territorio per far sì che quell'impianto possa riaprire e possa essere messo a disposizione dei cittadini di Pescara e di tutta la Regione. In questa posizione il Consiglio Comunale ha raggiunto l'unanimità perché su queste cose non ci sono maggioranze e opposizioni ma c'è la voglia di fare bene per Pescara. Adesso, dopo l'approvazione di quell'atto di indirizzo politico-amministrativo ci siederemo con la Regione, con l'assessore Liris, con il Presidente del Consiglio regionale Sospiri per trovare le soluzioni ideali per far sì che le naiali tornino ad essere quello che sono state nel cuore dei pescaresi e anche nelle attività dei pescaresi. Bisognerà garantire i posti di lavoro dei dipendenti delle naiali? Abbiamo ragionato anche su questo. Ovviamente dobbiamo sederci a un tavolo per trovare le migliori formule amministrative. Certo è che l'intervento sarà importante ma è chiaro che con la Regione troveremo le intese giuste perché non possiamo neanche appesantire i cittadini di Pescara e di spese ulteriori visto che in questo periodo la pandemia ha creato problemi a tutti, agli enti locali, ai cittadini, alle società, alle imprese e quindi anche su questo dovremo essere bravi per fare in modo che le naiali possano avere vita propria anche da un punto di vista economico. Che le naiali che si trovano in una posizione strategica al confine tra Pescara e Montesilvano in un'area di grande qualità ambientale perché c'è la pineta, perché c'è quello che noi vogliamo far diventare il parco nord in quella zona, quindi le naiali si trovi in una posizione unica e possono essere anche il collante per la nuova Pescara che stiamo creando.